Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle caratteristiche dei segni zodiacali in base all'elemento costituente. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Ti ricordi inoltre che sul canale è possibile abbonarsi e abbonandoti potrai scegliere tra abbonamenti base per dare un sostegno al canale e partecipare alle live, alla chat delle live. E poi c'è l'abbonamento invece Seminare Online che ti consente di partecipare nei seminari online che tengo mensilmente. E veniamo alle caratteristiche dei segni sulla base dell'elemento costituente. Allora, sappiamo che i segni sono suddivisi sulla base dei quattro elementi costituenti che ogni tradizione esoterica prende in esame. Abbiamo il fuoco, l'aria e la terra. E poi l'acqua. Sono i quattro elementi, fuoco, aria, terra e acqua, che costituiscono tutto ciò che vive. Ovviamente tutto ciò che è vivente ha tutti questi quattro elementi all'interno. Quindi noi siamo costituiti da fuoco, aria, terra e acqua, ma uno di questi predomina sugli altri, è predominante sugli altri, è quello di riferimento. E i segni zodiacali, diciamo, come tante altre cose nella nostra vita, sono basati sui segni zodiacali, sugli elementi costituenti. Allora, veniamo quindi alla suddivisione astrologica. Abbiamo i segni di fuoco, abbiamo, come è noto, ariete, leone e sagittario. Quali sono le caratteristiche del segno, diciamo, sulla base proprio dell'elemento? Allora, questi tre segni di fuoco, ariete, leone e sagittario, pur avendo delle caratteristiche ovviamente proprie e individuali, anche molto diverse l'uno dall'altro, hanno qualcosa in comune. Perché il fuoco è ciò che brucia, è la passione. Quindi la passione è una caratteristica comune. Sono segni determinati. Il fuoco è molto determinato. Sono segni incisivi, esuberanti. Ecco, queste sono caratteristiche del carattere di questi segni. Quindi passionali, esuberanti, determinati, decisi. Vediamo alcune caratteristiche comportamentali comune. Tanto sono segni... Il fuoco è una caratteristica, diciamo, di unione. Le persone si uniscono attorno al fuoco. Quindi sono segni che amano stare in compagnia, con gli amici, in famiglia. Il fuoco è anche luogo d'amore, di romanticismo. Infatti sono segni passionali, ma anche romantici. Sanno sorprendere. Il fuoco talvolta è imprevedibile. E quindi con loro le persone, i partner, non si annoiano. Perché tutti e tre i segni hanno una certa imprevedibilità. E poi veniamo ai segni d'aria. I segni d'aria sono i gemelli, la bilancia e l'acquario. Allora, l'aria è idealista. L'aria è volatile. I segni d'aria sono idealisti, ma l'aria entra dappertutto. Quindi i segni d'aria sono anche intelligenti, sono anche vivaci. Il vento può essere una brezza, può essere molto vivace. Possiamo dire che questi tre segni, gemelli, bilancio e acquario, porteranno una ventata di aria fresca nella vita. Sono segni molto originali. Sono segni che sono anche comunicativi. Nella vita di relazione tendono a essere un po' egoisti. Nella vita di coppia. Cioè, l'aria di fatto si coinvolge, ma l'aria è un po' dappertutto. Non si coinvolge in profondità. È un segno un po' più volubile. Ecco, possiamo dire che nelle relazioni di coppia, l'aria, i segni d'aria sono un po' più volubili. E poi abbiamo i segni di terra. I segni di terra sono il toro, la vergine e il capricorno. Allora, i segni di terra, la terra, diciamo, è la concretezza. Avere i piedi per terra vuol dire essere concreti. Come avere la testa per aria vuol dire essere, diciamo, per così dire, un po' testa tra le nuvole. E questa è un po' la differenza fondamentale tra i segni di terra e i segni d'aria. I segni di terra sono concreti, pragmatici, più realisti del re. Questa è un po' la caratteristica dei segni di terra. Saldi al suolo. Sono interessati dalle cose concrete, pratiche. Sono segni razionali. La logica li domina. Diciamo che non lasciano nulla al caso. Difficilmente si muovono istintivamente. Anche quando sono coinvolti da un punto di vista sentimentale, affettivo, preferiscono, diciamo così, mantenere da un certo punto di vista la stabilità. Perdono difficilmente le staffe, diciamo. E questa è un po' la loro caratteristica. E poi abbiamo i segni d'acqua. Gli ultimi tre segni d'acqua che sono il cancro, lo scorpione e i pesci. Cancro, scorpione e pesci. Allora, l'acqua è un segno anche un po' del mistero, le profondità degli abissi. È un segno enigmatico. L'acqua può essere buona, ma può essere anche cattiva. Quindi l'acqua unisce, però. È quell'elemento di cui siamo tutti composti e unisce. Pensate al mare con le isole. L'acqua unisce le varie isole. I segni d'acqua, quindi, sono un po' misteriosi. Sono sensibili, ma sono anche empatici. Diciamo che hanno una personalità complessa. Un po' come l'acqua del mare, che può essere calma, può essere agitata. I segni d'acqua sono spesso un po' contorti. Non hanno un modo di ragionare lineare. Però sono persone profonde, come profondo al mare. Queste sono le caratteristiche principali che accomunano i tre segni d'acqua, cancro, scorpione e pesce. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai partecipare alle live, con gli abbonamenti base. Ma se sceglierai l'abbonamento Seminar Online, potrai partecipare ai miei Seminar Online che faccio mensilmente. Ciao a tutti!